Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Allora ragazzi, oggi apriremo una bustina dei Legend of Animals Prehistoric Predators Iniziamo lì ad aprirla Scusate per la voce Oh mio Dio, abbiamo trovato un nuovo animale Abbiamo trovato Diego lo Smilodonte Allora, vi faccio vedere il poster Cioè guardate che figo raga Questo è lo Smilodonte Leggiamo le curiosità Noto soprattutto come tigre dai denti a sciabola Lo Smilodonte è uno dei mammiferi più terrificanti Grazie al potente corpo Anche 450 kg di peso E hai due canini superiori a cetuati Lunghi 15 cm E' in grado di bloccare la preda e ucciderla sul corpo con un attacco fulmineo Solitamente caccia in branco Va bene ragazzi, il video è tutto Questo è lo Smilodonte Ci vediamo nel prossimo video Ciao